Ragazzuoli oggi siamo su Minecraft Java Edition che a quanto pare ci sta dicendo Wang Qingcha Xinvin Xinvin O almeno questo è quello che io riesco a leggere Poi non so questa lingua Cosa è cinese? Mi sa che è cinese Vabbè Guardate che carini ragazzi di Twitch che vi stanno salutando Mi raccomando ragazzuoli Se volete venire anche voi live Due e un quarto di pomeriggio Nove e un quarto di sera Siamo sempre carichi, siamo sempre caldi Soprattutto ci rilassiamo E oggi stranamente non siamo nella Big Vanilla Infatti siamo nella versione 1.20.4 Quando vedete questo significa soltanto una cosa Che siamo di nuovo nella mia survival Ancora prima di fare qualsiasi cosa dormiamo Perché non voglio un creeper che mi esplode in faccia O un qualche zombie che mi picchia mentre parlo Come ben sapete o comunque Per chi se lo fosse perso Abbiamo costruito il Regno di Reghiaccio Che fa parte del progetto di ricostruire l'intera mappa di Adventure Time La casa e la foresta di Mela Verde Ci sono un sacco di maiali per qualche strano motivo E l'ultima live abbiamo concluso l'impossibile Dolcelandia Dolcelandia guardate qua che spettacolo ragazzuoli È uscita davvero davvero bene L'unica cosa non l'ho ancora illuminata Quasi nulla Soltanto un po' gli interni Perché mi stavo annoiando A fare esplodere i creeper e così via Potremmo Potremmo aver bisogno ancora di finire gli interni Come fa ad esserci uno zombie Ah ho capito perché c'è uno zombie Cos'ha in mano? Un blocco di nederite quello lì Ah lana nera Ok Potremmo aver bisogno di fare un po' di interni Un po' di cose ma Con calma le facciamo Oggi ragazzi facciamo Forse l'attrazione principale Di quella che voglio che sia la mappa di Adventure Time Ovvero la casa di Finn E la casa di Jake Tra l'altro ragazzi Io avevo già fatto la casa di Adventure Time Appunto nel mio vecchio mondo survival Allora ve la mostro Quella che voglio fare adesso è Non so quante volte più grande Ma estremamente più grande Rispetto a quella che abbiamo fatto Ah anche il fiume rosso dobbiamo finire Esatto Vero Abbiamo costruito questa qui Non è nulla di che A ripensarci Potevo farla più grande Però Quell'abilità che avevo all'epoca Era già tanta tanta roba E avevamo fatto anche questo Che è davvero incredibile Dovrei rifare una pixel art Magari con fiammetta Visto che lui ama più fiammetta Di gomma rosa Ok ragazzi I materiali che abbiamo bisogno Sono lana E fortunatamente la nostra farm Anzi Le nostre tre farm di lana Perché una farm di lana Non mi bastava Per procurarmi blocchi Ad una velocità interessante Altra lana Verde Oltre a quella lime E poi abbiamo bisogno Sono abbastanza sicuro Di avere anche della legna Esatto Abbiamo bisogno di un po' di legna Questa non mi basterà minimamente Proprio zero Ma Ancora prima di iniziare Qualsiasi cosa ragazzi Devo tornare verso casa Primo per vedere se ho ulteriore legna Perché potrei avercela ancora Secondo per farmare ulteriore lana Perché quella che abbiamo Non basterà minimamente E poi un'altra cosa che dobbiamo fare Boh vedere blocchi in generale Se abbiamo bisogno di blocchi Oh Ragazzuoli Porca vacca Gli ho tolto due torce E si sono ossidati quasi tutti Ma che cacchio Finalmente E non ero neanche Tanto vicino Cioè La maggior parte del tempo Sono stato alla cosa di Adventure Time Sapete cosa significa questo Che Ah no Questa non è ossidata Vabbè piano piano La L subliminale è ossidata Bene Ottimo Ah poi ci tengo anche a farvi vedere Che finalmente Visto che mi dite sempre Lollo Hai una farm enorme Di canne da zucchero Hai una farm enorme di gunpowder E non ti fai i razzi Provatemi a dire qualcosa adesso Maledetti Piena fino al midollo E ce ne ho anche altri Che ho messo nelle casse a caso Proprio perché non ci stavano più Abbiamo swaggato Sharpness 4 Fa troppo ridere che io Nonostante siano passati Più di 2000 giorni Nel mio mondo survival Ho ancora Beino Vartropods 5 Quello dei ragni Forse è arrivato il momento Di iniziare a pensare Di mettergli davvero Sharpness Perché Ah Sapete già che quando si viene Vicino al colosseo Significa solo una cosa 3 farm di lana Attive Bene Usiamo queste shulker box Grigie per portarci dietro La lana Questa shulker box Viola La posso usare per la terra Visto che mi servirà anche Della terra Questa blu Cosa possiamo portarci dietro Allora Pensiamo un attimo Come è fatta la casa Di Pien E la casa di Jake La mia idea ragazzi Era quella di fare Un albero Veramente grosso Veramente un albero imponente Con tanto di radici Fatto proprio bene Che questa volta Non è l'ingresso Della casa di Pien E Jake È semplicemente una base Che si erige verso l'alto Poi ha i suoi rami Che escono E nei rami che escono Ci andiamo a mettere Quelle che sono le foglie Le foglie che Verranno fatte Interamente in lana Ma Ragazzi Questa volta Non ci casco io Questa volta Non ci casco Chi si ricorda Cosa è successo Nel mio vecchio mondo survival Con la casa di Adventure Time La prima che abbiamo costruito Perché ne ho dovuto A costruire un'altra Ehi Ti ho visto che non hai lasciato Like al video E mi raccomando Ricordati di bere Due litri d'acqua al giorno Io ho appena finito i miei È importante per la tua salute Ha preso fuoco Perché purtroppo Ci è andato sopra un fulmine Io l'ho vista Con la coda dell'occhio Tutto questo è live Siamo corsi E purtroppo Ormai Quasi metà dell'albero Aveva preso fuoco Poi ha continuato a bruciare Allora ho fatto esplodere Tutto con la TNT Tra l'altro ho rovinato Anche altre costruzioni Per fare sta stupidata Lasciamo perdere E alla fine Le abbiamo costruite un'altra Che è quella che vi ho fatto vedere Che è uscita molto molto bene Anzi Secondo me è uscita meglio Quella che vi ho fatto vedere Rispetto alla prima La prima era molto Realistica Insomma Era un abbozzo Di un albero strano Un po' di string Queste le tramutiamo Straisi in lana Ragazzi Questi sono tre minuti di farm Altro che le farm Con le pecore Cioè qui Qui è family friendly Greta Thunberg Per una volta Non mi vuole picchiare a sangue Ma è contenta Uno shulker box pieno In tre minuti Con tre farm Tecnicamente Questa farm Si può costruire Verso l'alto Perché se io rifacessi Lo stesso procedimento Si si può costruire Verso l'alto Fai una stessa cosa qui Mamma mia Immaginatevi questa cosa Sviluppata all'altezza Del Colosseo Quanta lana può produrre Se questa è la lana Che produce nel giro di Bo Un minuto Incredibile Arriviamo a riempirci Due shulker box E poi si vola Verso Dolcelandia O comunque Verso Adventure Time Non so come chiamarlo Quel posto Come la chiamiamo L'intera mappa Di Adventure Time Ma un nome Chiamava UU qualcosa Uguards UU qualcosa I regno di O E allora non era U Era O Ma anche al progetto Di Adventure Time Ma tutto il resto c'è C'è anche un gran progetto Che adesso vi faccio vedere Di sfuggita Mentre scappiamo Verso l'alanda di O Ora le abbiamo dato un nome Finalmente Anzi ci dobbiamo pure andare Perché devo prendere Il colorante dai cactus Potete scaricarvelo Giocarci Fare quello che volete E ho scoperto Che probabilmente Questo lag Che c'è Quando sono qui Che è il più grande punto Di domanda nel mio mondo È realisticamente legato Proprio la farm di cactus Per gli hopper Per la quantità di oggetti Che si spostano Eccetera eccetera Prendiamoci un po' di cactus Almeno li mettiamo a cucinare Per fare il colorante E con due di render distance Per non laggare Usciamo da questo posto Allora Come vi dicevo Vi faccio una mia idea In miniatura Di quello che volevo costruire Ragazzi Vi fa capire meglio Cosa mi passa per la testa Ovviamente è un albero Un albero È più o meno Fatto così Nella vita reale La mia idea era Di fare un alberozzo Appunto In questo modo Circa Adesso ovviamente Sarà un albero gigante Quindi Questo non c'entra nulla E da ogni ramo Quindi più o meno Fanno un cerchio Questi rami qui Far partire Adesso non ce l'ho dietro La cacchio di lana Ve la prendo Così vi faccio capire Ancora meglio E mi sono portato Dietro anche la forbice La stempiatrice La forbice Commending Gunbreaking 2 E Deficiency 5 Uno dei pochi Che incanta le sue forbici Una cosa di questo tipo Dove Abbiamo tutta la chioma Dell'albero Una cosa così ragazzi Fatemi vedere Se riesco a cucinarla per bene In miniatura Ovviamente questo non è il progetto finale Non è da me Fare una cosa così piccolina Sì esatto Una cosa così E ho pensato Alla lana Verde scuro Per giustamente Dare un pochettino Di colore in più E farlo tutto così Non è una buona idea Bello Ovviamente In versione gigantesca E questo sarà l'albero Di Adventure Time Poi Visto che mi avete chiesto Di costruire personaggi In versione gigante Li facciamo in miniatura Mi piacerebbe farci Finn Jake E Bimo Poi ovviamente faremo anche Reghiaccio E faremo anche Gomma rosa Che mi piacerebbe fare Difficile Ma seduta Sull'albero gigante Sopra il suo regno Che guarda giù E si rilassa Poi quando costruiremo Anche altre cose Costruiremo anche le altre cose Ho il presentimento Che utilizzerò spesso Questa ascia Dovrei forse Metterla Nel torchio Per renderla in nederite Nah Usiamola in diamante Restiamo umili Umili Ok Iniziamo Non voglio iniziare a caso Voglio prendere un po' di dimensioni Dell'albero Quanti blocchi ho messo Fino ad adesso 3 4 13 14 15 Facciamo 17 Mamma mia 17 è grosso grosso Come albero Dovrebbero essere 17 Precisi In modo da poter fare anche Una sorta di cerchio Sì Perfetto Più o meno Dovrebbe venire a cerchio Vediamolo dall'alto Mi piace È abbastanza grande Come tronco Dai Da un lato lo vorrei riempire tutto Dall'altro forse ci costruisco Dentro qualcosa Quindi per il momento Non lo riempirò tutto Anche se Mi tengo comunque Il blocco centrale Come riferimento Che mi servirà sicuramente E nel centro Probabilmente farò Una scalinata Qualcosa che va su Basandosi sul Piolo centrale Dell'albero Iniziamo ad alzare Questo di un blocco Bro per il fiume Il fiume non l'ho ancora finito Ma l'abbiamo iniziato Ho usato la concrete E il vetro rosso Che non è propriamente clay Ma è più o meno clay dai Usiamo la terra Come blocco temporaneo Da togliere Per questo alberozzo Non è facile Costruire un albero Ragazzi Non sono neanche forse La persona più adatta A farlo Però ci provo È una cosa che non ho mai fatto Perché l'unica volta In cui mi sono spronato Per costruire un albero Era nel mio mondo hardcore E mannaggia Abbiamo fatto una brutta fine Mentre battevamo il drago Non so chi si ricorda Ma sono esploso Cercando di fare Di rompere un cristallo Del drago Non pensavo che ti one shotasse Un po' di tempo fa Non è stata la mia morte Più gloriosa Sinceramente Però Oh sto cucinando Per essere uno che non ha mai fatto Un albero grande Mi sento fiero di me stesso In questo momento Non avevo mai pensato Di usare la terra Come blocco temporaneo Non stringere troppo l'albero Eh lo so È proprio quello Che stavo guardando Avevo un attimo Poi di stringerlo troppo Potrei anche farlo Riallargare in realtà Adesso lo farei andare in alto Un pochettino Perché sta uscendo bene Non voglio trollarla E poi lo rifacciamo allargare E gli facciamo I rami I rami quanti erano Nell'albero di Adventure Time Devo guardare al volo ragazzi Questo è importante Quanti rami aveva L'albero di Adventure Time Cerchiamo Adventure Time Tree Ok Aveva Aveva Ne aveva sei Oh cavolo Ho una foto degli interni Ne ha due grossi dentro Che sono praticamente uguali E poi ne ha tre Che si staccano dal davanti E uno che si stacca Dalla parte sopra E ha anche un po' di radici Poi ha una zona Dove c'è la casa Con il tesoro Bello Bellissimo Ma devo alzare un po' I rami Tipo questi Qui Li alziamo tutti Sì Sì Così Perfetto Oh è difficile Estenderlo verso l'alto Mannaggia Diciamo così Riduciamo i blocchi No aspetta Ha senso Sì 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 Ha senso Ho fatto bene i calcoli Per questo alberozzo Sembrerebbe di sì Ma dall'altro lato Sembrerebbe anche di no No è giusto Ok Ho stretto solo troppo L'ultimo lo toglierei L'ultimo strato E lo farei andare Più dritto Per poi andarlo A far riaprire Ok adesso devo mettere Dei blocchi temporanei All'esterno Che strano Mamma mia La cosa dei blocchi temporanei È la svolta però Perché non ci ho mai pensato prima Mettevo sempre blocchi seri Invece Sì deve salire ancora un Ma sai che in realtà No secondo me Potrebbe funzionare invece Perché da qua lo facciamo salire Un pochettino E poi lo facciamo Branchare di due Dovendo decidere i due lati Mi sa che le faccio di qua e di qua Sinistra e destra E non dritto e indietro Iniziamo a fare anche Le radiciozze Sono sempre complicate Da fare le radici di un albero Eh Ma non per l'olulacustre Yeah 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 Qua sopra forse Le le metto Di un altro colore Perché non vorrei che vadano A creare un po' Un'incongruenza Nei colori delle vere radici Perché le vere radici Sono un po' più scure Non sono chiare come qua sopra No in realtà no Potrei salvarmi Ok E questo ovviamente Poi lo facciamo Collegare all'alberozzo In questo modo qua Molto random Come ci piace a noi Con una transizione leggera Che va verso il basso E si tramuta poi In grande radice Quale è il progetto Che mi ha richiesto Più impegno e tempo Considerando sia quanto costruivi Sia quando prendevi i materiali Mi sa l'ultimo progetto Che abbiamo fatto Davvero grosso Che era il progetto Della piramide Che considererei il progetto Più grande di Minecraft Italia Oltre quello Ovviamente è stato Hogwarts Hogwarts A differenza del progetto Quello lì È stato molto più pesante Mentalmente Perché L'ho fatto tutto sparato Cioè io ho fatto Ogni singolo giorno Ho saltato forse un giorno solo Ma sto probabilmente esagerando Però ho saltato un pomeriggio Sei ore al giorno A costruire solo Hogwarts Mentre invece Adesso che ho imparato Che per la mia salute mentale Non è una buona idea Sto iniziando a variare un po' Quindi magari Faccio anche altri Progetti in parallelo Adesso sto facendo Adesso sto facendo anche Un'altra serie Mentre costruisco questo Quindi Devi sapertelo all'equilibrio Però sicuramente Quello è stato Il progetto più dispendioso Anche perché Ho dovuto ingegnarmi Per far esplodere Zone che mi servivano A pulire Eccetera eccetera Ragazzi Per essere un neofita Di alberi Io mi sento Estremamente proud Di quello che sto facendo Ve lo giuro Come cacchio Ho fatto a fare un albero così Si può far meglio Però Datemi il tempo Di capire come fare un albero Ok ragazzi Abbiamo fatto le radici Forse effettivamente Alcune sono un po' lunghe Ma Non è importante dai Più che altro Dovrei allungare le altre Vediamolo di qua Di qua è uscito bene C'è solo un ramo Che non mi convince Questo ramo qui Sistiamo questo ramo E sono a posto Sembra effettivamente Più una piovra Che un albero Però va bene Tanto poi Si andrà un po' a disperdere Facendo tutta la chioma Rigogliosa Che arriva giù Si 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 Adesso devo Espanderlo un attimo In due direzioni Nello specifico Che dovranno essere Perfettamente simmetriche Le due direzioni Le facciamo Verso Dulce Landia E verso Regno di Raghiaccio Oppure le facciamo Da quest'altro lato Quindi di qui e di là Decirete voi Avanti e indietro Oppure sinistra e destra Sinistra e destra Ragazzi Bene Vediamo se riesco A fare gli alberozzi Nella direzione giusta Che altro Di rami Sono paralleli Sono paralleli Sembrerebbero esserlo almeno Perfetto Facciamolo anche dall'altra parte Allora qua lo facciamo Soltanto alto 1 Mentre invece dal lato Dove si espandono Verso l'alto Lo facciamo alto 2 Quindi così Ottimo Sì è molto simile all'altro Va un po' in fuori E poi torna in dentro E si restringe Mamma mia Replicare sta cosa All'altra parte Sarà bella tosta Infatti mi sa Che non la farò uguale A sto punto E poi qui Vabbè Lo alziamo un attimo Di due Quindi questi me li riprendo Nel cillo E qua torniamo Un po' in dentro Piano piano però Quindi facciamo così Con una piccola transizione Verso l'alto Vediamo se ho cucinato per bene Non ho cucinato per bene Stavo iniziando a cucinar per bene Ma ho trollato Nel farlo troppo Incurvato in questa direzione Allora l'unica cosa Che mi viene in mente È di farlo andare in fuori Ancora un po' Magari così E facendo anche Un ultimo così Bene No aspetta Questo è già in dentro Cosa sto facendo Devo andare in fuori Eh questo ramo Mi piace già di più Riempiamo tutto qui sotto Dove ci sarà il pavimento E facciamo anche Una bozza di entrata Se i due rami sono Da questi due lati qua L'entrata sarà Più o meno da qui Per il tempo Riprendiamoci un po' di terra Io Guardate Mi è venuta un'idea Vi facciamo il solarium sopra Per poter guardare Le stelle Per poter guardare Questo spettacolo qua Allora L'interno lo facciamo Cioè all'interno La porta per entrare La facciamo qui Sì ha anche senso Farlo da questo lato Perché è vicino Al regno di reghiaccio Almeno è tutto collegato Lo farei più o meno Volevo farlo sopra Però mi sa che lo facciamo qua E poi si sviluppa Ovviamente verso il basso Pavimentazione Pavimentazione Riuscirà Lollo A fare la pavimentazione Non lo so Allora sotto Lo decoriamo in questo modo qua Qui mi piacerebbe Metterci qualche libreria Incastrata Più o meno Bello bello È uscito bene Anche i colori Molto nostalgico Ha un senso di malinconia Questo legno Più torcerelline O le shaders Poi devo capire appunto Come sviluppare Ma la cosa che pensavo Era di fare la scala Qui centrale Come punto di riferimento Tipo per delle scale O Anzi cercando di capire Più o meno Un'altezza Di quello che potrebbe essere L'albero Non pensavo Di cavarmela Così bene In costruire Un albero Mi ricordo ragazzi Quando parlavamo Di questo progetto Di Adventure Time All'inizio dicevo Ci metteremo un mese Ci metteremo No mi sa che ci metteremo Un mese L'ho già visto In una settimana Finirlo Poi ho iniziato A fare il regno Di gomma rosa E ho sgravato Un po' troppo Con le dimensioni Sinceramente Lacustri Io vi ringrazio Tantissimo della visione Come al solito Se volete vedere Altri miei due video Io ve li lascio qui E noi ci vediamo al prossimo Let's go Let's go